Trimestrale da dimenticare per Microsoft, che nel periodo aprile-giugno registra perdite per oltre 2,9 miliardi di euro. Pesa la svalutazione da 6,8 miliardi di euro della divisione smartphone, acquistata da Nokia l'anno scorso, segnali positivi arrivano dal settore cloud computing, dai tablet ibridi Surface e da Xbox, ma il colosso statunitense, che ha da poco annunciato il taglio di 7.800 posti di lavoro, principalmente proprio nella divisione mobile, vede un calo delle vendite di Windows. La speranza è che la decima versione, che esce settimana prossima, possa ravvivarle.